Allora, io mi chiamo Silvio, sono il proprietario del ristorante Casa Bianca, che è situato ai confini tra Bruzzo e Lazio. Sono qui per presentare dei piatti tipici del nostro locale. La sfoglia è stata preparata con uova e farina e un pizzico di sale. E adesso facciamo delle vallardelle, saremo una fettucina larga. A tempo di cottura sono 4-5 minuti perché è pasta fatta in casa, fresca. Adesso noi nella pentola abbiamo preparato il piro d'anatra in bianco, sedano, carote, cipolla e carne macinata di anatra, bagnata col vino bianco. Adesso prendiamo la pasta, la spolventiamo. Mettiamo un po' di fecorino. Mettiamo un po' di fecorino. Mettiamo un po' di fecorino. Mettiamo un po' di prezzemolo. Mettiamo un po' di fecorino. Mettiamo un po' di fecorino. Allora, aggiungiamo il pecorino. Allora, aggiungiamo il pecorino. Allora, aggiungiamo il pecorino. Un po' di prezzemolo. Un po' di pepe. Un po' di pepe. Grazie a tutti.